Ciao, bentornata, bentornato a Letture Viandanti, io sono Valentina Ferraro, la musifabolista. Oggi proseguiamo nella lettura di Cranford di Elisabeth Gaskell e ti avviso per correttezza che sto usando una nuova postazione di registrazione. I dettagli di questo tipo di letture sono nella descrizione dell'episodio. Buon ascolto! 5. Vecchie lettere Ho avuto spesso occasione di notare che quasi ognuno di noi è portato a fare certe piccole economie, diligente consuetudine di risparmiare frazioni di centesimo sempre in un determinato settore, e qualsiasi inconveniente che turbi la sua mania gli reca più fastidio che non lo spendere scellini o sterline per soddisfare un capriccio. Un vecchio signore di mia conoscenza, che ha prese con stoica serenità la notizia del fallimento della banca azionaria nella quale aveva investito una certa parte dei suoi capitali, per un intero giorno d'estate sottopose i suoi familiari ai più acerbi tormenti perché uno di essi aveva lacerato, anziché tagliarli, i fogli scritti ormai inutili nel suo libretto di banca. Naturalmente erano pure andate perdute le corrispondenti pagine bianche del quinterno e questo non necessario sperpero di carta, oggetto della sua peculiare economia, lo irritava più della perdita del denaro. Le buste delle lettere lo agitavano terribilmente non appena giungevano e il suo solo modo di rimediare a tanto sciupo del suo oggetto favorito consisteva nel paziente lavoro di rivoltare le buste a lui dirette per renderle di nuovo servibili. Anche ora, benché addomesticato dagli anni, quando le figlie usano un mezzo foglietto di carta per scrivere da una parte sola tre righe di accettazione in risposta a un invito, il padre lancia su di loro occhiate malinconiche. Confesso di essere io stessa vittima di questa umana debolezza. Il mio pallino è lo spago. Le tasche mi si riempiono di mozziconi di cordicella raccolti e legati insieme, pronti per essere usati in circostanze che non si presentano mai. Sono veramente seccata quando qualcuno taglia la funicella di un pacco, anziché applicarsi con paziente e precisione a districarne i nodi. Non riesco a comprendere come la gente possa indursi a usare con tanta spensieratezza gli anelli di gomma, che sono una specie di deificazione dello spago. Per me, un anello di gomma rappresenta un tesoro prezioso. Ne possiedo uno usato, raccolto a terra circa sei anni fa. Ho fatto il tentativo di adoperarlo, ma il cuore mi è venuto meno e non sono stata capace di commettere tanta pazzia. Altri soffrono per dei pezzettini di burro. Essi non riescono a prendere parte alla conversazione perché infastiditi dallo spettacolo di certa gente che invariabilmente si serve di una quantità di burro superiore al bisogno. Non avete visto con che sguardo preoccupato, quasi magnetico, queste persone fissano il burro? Si sentirebbero sollevate se potessero farlo sparire ingoiandolo in un sol boccone. Essi sentono veramente felici se la persona, sul piatto della quale si trova il burro non consumato, spezza subitamente un boccone di pane abbrustolito, di cui non ha affatto desiderio, per finire il burro avanzato. Essi pensano che ciò non costituisce uno spreco. La signorina Matti Jenkins era particolarmente economa in fatto di candele. Ricorrevamo perciò a vari espedienti per farne il consumo più limitato possibile. Nei pomeriggi d'inverno Matti se ne stava seduta per due o tre ore a fare la calza e riusciva a lavorare al buio o al chiarore della fiamma del caminetto. Quando le proponevo di far portare le candele per dare gli ultimi punti al polsino di una camicia, ella mi consigliava di godere la vacanza del cieco. Normalmente le candele comparivano col tè, ma se ne accendeva una alla volta. Poiché si viveva nella costante attesa di un'amica che poteva sopraggiungere in qualsiasi momento, il che non avveniva mai, ci voleva una certa bravura a mantenere ad un uguale livello il consumo delle candele, in modo che, accesa la seconda lì per lì, avesse l'impressione che già fossero ugualmente consumate tutte e due. Esse, perciò, venivano accese spente a turno, e qualunque cosa si dicesse o si facesse, gli occhi della signorina Matti si tenevano abitualmente fissi sulla fiamma, sì che era pronta a balzare in piedi per spegnere quella e accendere l'altra prima che il divario di consumo si accentuasse tanto da non potersi ristabilire l'equilibrio nel corso della serata. Ricordo che una sera questa economia nel consumo delle candele mi riuscì particolarmente fastidiosa. Mi sentivo molto stanca della mia forzata vacanza del cieco, specie perché la signorina Matti si era addormentata e mi spiaceva riattizzare il fuoco e correre così il rischio di svegliarla. Perciò mi era anche impossibile sedere sul tappeto davanti al caminetto e scottarmi la faccia per cucire al chiarore della fiamma, secondo la mia consuetudine. Immaginavo che la signorina Matti rivivesse in sogno qualche episodio della sua giovinezza, perché nel sonno inquieto aveva pronunciato alcune parole che si riferivano a persone defunte molto tempo prima. Quando Marta entrò con il tè e la candela accesa, la signorina Matti si destò di soprassalto, guardandosi intorno sbigottita come se non fossimo noi le persone che ella si aspettava di trovarsi vicino. Appena si rese conto della mia presenza, il suo viso fu belato da una leggera espressione di tristezza, ma ella tentò subito dopo di mostrarmi il suo sorriso abituale e, mentre si prendeva il tè, mi parlò dei suoi anni giovanili. Forse furono questi ricordi a suscitarle il desiderio di rileggere la vecchia corrispondenza familiare e distruggere tutto quanto non sarebbe stato conveniente che cadesse nelle mani di Estranei, perché sovente aveva parlato della necessità di sbrigare quella bisogna, di fronte alla quale aveva sempre indietreggiato per un vago timore di sensazioni penose. Quella sera, tuttavia, dopo il tè, si alzò per andare a prendere la corrispondenza al buio. Ella si vantava a tal punto dell'ordine preciso con cui erano disposti i suoi mobili che era solita lanciarmi occhiate inquiete tutte le volte che io accendevo la candela per andare da una stanza all'altra a prendere qualcosa. Al suo ritorno si diffuse nella stanza un delicato e piacevole sentore di fava americana. Avevo altre volte notato che questo profumo alleggiava attorno a tutto quanto era appartenuto a sua madre. Molte di quelle lettere erano infatti indirizzate a lei. Facchetti ingialliti di lettere d'amore, vecchie di 60 o 70 anni. La signorina Matti aprì l'involto con un sospiro che si affrettò a reprimere come se non fosse lecito il rimpianto per la fuga del tempo e della vita. Si stabilì che avremmo fatto lo spoglio separatamente, prendendo le lettere dallo stesso pacchetto e riferendone ciascuna all'altra il contenuto prima di distruggerle. Non mi ero mai resa conto prima di allora di quanto fosse triste leggere delle vecchie lettere, benché io stessa non avrei saputo spiegarne il motivo. Vera in esse, quantomeno in quelle della prima giovinezza, tutta la felicità di cui le lettere possono essere capaci, un senso così vivo e profondo dell'ora presente, uno slancio e una pienezza di vita tali da far pensare che il tempo avesse dovuto durare eterno e che i cuori palpitanti che le avevano dettate non avessero dovuto mai morire, mai essere negati a quella terra di sole. Credo che avrei provato minor tristezza se le lettere fossero state più malinconiche. La signorina Matti piangeva in silenzio, le lacrime le scendevano furtive sulle guance rugose e spesso ella doveva asciugarsi gli occhiali. Sperai infine che avrebbe acceso l'altra candela perché avevo anch'io lo sguardo annebbiato e avevo bisogno di maggiore luce per distinguere la scrittura pallida e sbiadita. Ma no, anche attraverso le lacrime, ella sorvegliava la fiamma, conscia delle sue piccole pratiche di economia. La raccolta delle lettere di più antica data era costituita di due pacchetti legati insieme su cui la signorina Jenkins aveva scritto di proprio pugno «lettere scambiate fra il mio indimenticabile padre e la mia amatissima madre prima del loro matrimonio nel luglio 1774». Credo che il rettore di Cranford avesse 26 anni quando aveva scritto quelle lettere e la signorina Matti mi disse che sua madre, quando si era sposata, ne aveva appena compiuto 18. Data l'idea che del rettore mi ero fatta guardando un ritratto appeso nella sala da pranzo, nel quale egli appariva rigido e impettito nel suo abito talare, con una parrucca completa, la mano posata su una copia dell'unico volume di sermoni che aveva pubblicato, la lettura di quei biglietti mi dava una strana sensazione. Erano pieni di una passione inquieta e ardente, di espressioni semplici, sgorgate direttamente dal cuore, molto diverse dallo stile johnsoniano pomposamente latineggiante con cui erano stati scritti i sermoni declamati davanti a qualche giudice in assise. Le sue lettere formavano un curioso contrasto in paragone a quelle della fidanzata. Evidentemente ella non gradiva le sue esortazioni a scrivergli parole d'amore e non riusciva a comprendere a quale scopo egli ripetesse le stesse cose in diversi modi. Ella sapeva invece esprimere molto chiaramente il suo desiderio di avere della seta bianca di Padova e gli aveva inviato sei o sette lettere per invitare l'amato a usare la sua influenza presso i genitori, che evidentemente la dovevano a dovere, no, che evidentemente la tenevano a dovere, affinché le provvedessero questo o quell'altro oggetto di vestiario e in modo particolare la bianca seta di Padova. A lui importava poco del modo come ella si vestiva, per lui era sempre bella, come aveva cura di assicurarle ogni qualvolta ella lo pregava di precisare nelle risposte la sua predilezione riguardo a piccoli ornamenti, sì da poterne informare i genitori. Ma alla fine egli credette di capire che ella non voleva sposarsi finché non possedesse un corredo di suo gusto e allora egli aveva mandato una lettera, evidentemente accompagnata da una scatola di graziosi ornamenti, nella quale chiedeva che fosse permesso alla sua fidanzata di vestirsi secondo i suoi desideri. Questa era la prima missiva su cui una mano fragile e delicata aveva scritto «dal mio carissimo Giovanni». Immaginai che poco tempo dopo si fossero sposati perché la corrispondenza a questo punto era interrotta. «Credo che faremmo bene a bruciarle», disse la signorina Matti guardandomi con aria irresoluta. «Dopo la mia morte non interesseranno più nessuno». E le gettò alle fiamme una ad una, guardandole prendere fuoco e spegnersi per levarsi poi a volo su per la cappa del camino simili a palli di fantasmi. Ora la stanza era sufficientemente illuminata, ma anch'io, come lei, seguivo con lo sguardo affascinato la distruzione di quelle lettere, nelle quali si era riversato tutto l'ardore di un cuore virile. La lettera successiva portava la seguente soprascritta, pure vergata dalla signorina Jenkins. «Lettera di devote felicitazioni e di esortazioni fatte dal mio venerabile nonno alla mia carissima mamma in occasione della mia nascita». Contiene inoltre alcuni consigli pratici circa la convenienza di tenere riscaldate le estremità dei fanciullini dettati dalla mia ottima nonna. A dire il vero, la prima parte era una severa e vigorosa descrizione delle responsabilità materne e un avvertimento contro i mali che popolano il mondo, sempre in spaventoso agguato per ghermire i fantolini che hanno due giorni di vita. Il vecchio gentiluomo annunciava di aver vietato alla moglie di scrivere perché si era sologata una caviglia, cosa che, egli diceva, le impediva di tenere la penna in mano. Tuttavia, in piedi pagina, c'era un piccolo voltare e nella pagina seguente uno scritto «Alla mia carissima Molly», nella quale la madre pregava la figlia di non dimenticare quando usciva dalla stanza di salire prima di scendere e le suggeriva di avvolgere nella flanella i piedini del pargoletto e di esporli al calore della fiamma anche nella stagione calda perché i piccini sono molto delicati. Era commovente dedurre da quelle lettere che venivano evidentemente scambiate con una certa frequenza fra la giovanissima mamma e la nonna come l'amore per una piccola creatura andasse a poco a poco soffocando la vanità giovanile della madre. La bianca seta di Padova ricorreva ancora nelle lettere, con insistenza quasi uguale a quella di tempo addietro. In una di esse si diceva però che quel tessuto era stato adoperato per farne una mantellina da battesimo alla neonata, mantellina che era servita pure a ricoprirla in occasione di una breve visita a Darley Hall e che aggiungeva un ultimo tocco di grazia alla piccina tutte le volte che la si ammirava come la più graziosa bambina che mai si fosse vista. Cara mamma vorrei che tu potessi vederla. Non credo di peccare di parzialità dicendo che diventerà una vera bellezza. Mi venne in mente la signorina Jenkins grigia, rinsecchita, rugosa e mi chiesi se la mamma aveva potuto riconoscerla al suo ritrovarla nelle sfere celesti e poi sentì che sì, che ormai erano entrambe assorte nell'angelico splendore. Fra un gruppo e l'altro delle lettere inviate dal rettore alla moglie correva un grande intervallo e allora la moglie ne aveva cambiato la dicitura sostituendo stimato marito a carissimo Giovanni. Si trattava delle lettere scritte in occasione della pubblicazione del volume di sermoni riprodotto nel ritratto. Le predicazioni tenute davanti al signor giudice e l'invito alla pubblicazione avevano evidentemente costituito il punto culminante, il grande avvenimento della sua vita. Era stato necessario un viaggio a Londra per sovrintendere alla stampa del volume. Prima di scegliere l'editore a cui affidare un incarico di così grande responsabilità, erano stati visitati e consultati molti amici e finalmente era stato deciso di dare la preferenza alla casa J&L Rivingstones. Sembrava che quella circostanza avesse invogliato il degno rettore a lanciarsi a fare dell'alta letteratura, poiché difficilmente riusciva ora a scrivere una lettera alla moglie senza disseminarla di citazioni latine. Ricordo, infatti, che chiudeva, che una chiudeva a questo modo. La qualcosa, considerando che la sua corrispondente inglese incappava talora in errori di grammatica e sovente di ortografia, può testimoniare quanto egli idealizzasse la sua molly. D'altronde, per dirla con la signorina Jenkins, oggi la gente fa un gran parlare di idealizzazione, qualunque cosa ciò possa significare. Ma tutto ciò aveva ben poca importanza in confronto all'estro con cui poco tempo dopo era stato preso di scrivere poesie di gusto classico nelle quali la sua molly figurava col nome di Maria. Sulla lettera contenente il Carmen, egli aveva scritto «versi in lingua ebraica inviatimi dal mio stimato marito». Pensavo di ricevere una lettera circa il modo di uccidere il maiale, ma devo ancora aspettare, ricordare di inviare i versi a Sir Peter Arley secondo il desiderio di mio marito. E in un po' scritto, egli ricordava che l'ode era stata pubblicata nel numero del dicembre 1782 da Gentleman's Magazine. Le lettere da lei inviate in risposta a quelle del marito, che gli aveva amorosamente custodito come se fossero state le epistole di Cicerone, erano di maggior soddisfazione per un marito e padre lontano di quanto quelle di lui non fossero state per la moglie. Ella gli raccontava come ogni giorno Deborah attendesse con cura al suo lavoro di cucito e leggesse alla mamma brani dei libri che egli le aveva prescritto. Come fosse una ragazzina molto precoce, che faceva domande alle quali la mamma non sapeva come rispondere, e che la mamma, per non confessare la sua ignoranza, si mettesse a riattizzare il fuoco o mandasse quel piccolo fenomeno a fare qualche commissione. Ora era Matti la gioia della mamma e prometteva, come la sorella quando aveva la sua età, di diventare una vera bellezza. Io leggevo ad alta voce queste parole alla signorina Matti, la quale sorrideva e sospirava, ricordando la speranza così teneramente espressa dalla madre che la piccola Matti non dovesse crescere vanitosa se anche fosse stata una bellezza. Mia cara, avevo dei bellissimi capelli, disse la signorina Matilda, e la bocca per niente brutta. E poco dopo si diede una giustatina alla cuffia drizzando il busto. Ma torniamo alle lettere della signorina Jenkins. Scriveva al marito in merito ai poveri della parrocchia. Gli diceva delle semplici medicine che aveva somministrato e dei decotti d'erbe che la stessa aveva preparato. Per tutti i buoni a niente teneva in serbo lo spauracchio dei rimproveri del signor rettore. Gli chiedeva poi istruzioni a proposito delle mucche dei maiali e, come ho detto prima, non sempre le otteneva. Poco tempo dopo la pubblicazione del volume di sermoni, la buona vecchia nonna era morta e la mamma aveva dato alla luce una creatura. Ma vi era un'altra lettera di esortazioni inviata dal nonno, più che mai precisa e ammonitrice, ora che si doveva salvaguardare un figlio maschio dalle insidie del mondo. La lettera conteneva la descrizione di tutti i peccati in cui gli uomini possono cadere, al punto che io mi chiesi come poteva succedere che un uomo morisse di morte naturale. Si aveva l'impressione che l'esistenza della maggior parte degli amici e conoscenti del nonno fosse finita sul pativolo e non mi sorprese il modo con cui egli parlava di questa vita come di una valle di lacrime. Sembrava strano che prima ad allora non avessi mai sentito parlare di questo fratello, ma aggiunsi alla conclusione che doveva essere morto giovane, che altrimenti le sue sorelle lo avrebbero certamente ricordato. Subito dopo ci vennero fra mano le lettere della signorina Jenkins. Questa corrispondenza la signorina Matti non si sentiva di darla alle fiamme. Le altre lettere potevano avere interesse soltanto per chi fosse legato d'affetto a coloro che le avevano scritte e alla signorina Matti avrebbe fatto pena lasciarle cadere in mano a distranei che non avessero conosciuto la madre né apprezzato la sua bontà nonostante i suoi piccoli errori di ortografia. Ma le lettere di Deborah erano di tanto superiori. La loro lettura sarebbe riuscita di vantaggio a chiunque. Da molto tempo non leggeva più la signorina Chapon. Chapon. Ma ella aveva sempre avuto la convinzione di che Deborah avrebbe saputo dire le stesse cose altrettanto bene. E quanto alla signorina Carter, la gente diceva un mondo di bene delle sue lettere appunto perché aveva tradotto epiteto, ma ella aveva la certezza che Deborah non avrebbe mai usato un'espressione volgare come «non scocciatemi». Era evidente che le rincresceva di distruggere quella corrispondenza. Non era del parere che io la mettessi da parte con indifferenza dopo averle dato una scorsa, saltando qua e là da un brano all'altro. Tanto che me la tolse di mano e accese anche la seconda candela per poterne dare lettura ad alta voce con la dovuta energia senza scomporsi davanti ai paroloni difficili. Ahimè, quante volte sentì il bisogno di ascoltare fatti in luogo di vane parole durante quelle letture, le quali occuparono due delle nostre serate e non nascondo di aver pensato allora a molte altre cose pur senza lasciarmi mai sorprendere in flagrante disattenzione. Le lettere del rettore e quelle di sua moglie e di sua suocera erano piuttosto brevi e sostanziose, vergate con una scrittura diritta a righe molto ravvicinate. Talora la lettera consisteva di un semplice foglietto di carta molto ingiallita dall'inchiostro assai scuro. Alcuni fogli, come mi fece osservare la signorina Matti, erano autentici esemplari dei primi biglietti emessi dalle poste col francobollo riproducente la figura di un postiglione di viaggio che soffiava nel corno. Le lettere della signorina Jenkins e quelle di sua madre erano chiuse per mezzo di un grande sigillo di ostia, rosso e tondo, perché erano precedenti all'epoca in cui il patronage di Mary Egworth aveva bandito l'uso delle ostie dalla società elegante. Dal loro contenuto appariva evidente che c'era grande richiesta di francobolli, usati perfino come mezzo di pagamento dei debiti da parte di membri del Parlamento in cattive acque. Il rettore sigillava le sue lettere con un enorme stemma e la cura con la quale appariva eseguita quella cerimonia rivelava la sua speranza che la lettera venisse aperta per mezzo di una lama e non lacerata da una mano spensierata o impaziente. Ora, le lettere della signorina Jenkins, tanto per la forma quanto per la scrittura, appartenevano a un tempo posteriore. Ella usava scrivere su foglie di forma quadrata che noi abbiamo convenuto di chiamare di vecchio tipo. La sua calligrafia, mirabilmente spaziata, riempiva il foglio di lunghe parole plurisillabe, dopodiché ella si abbandonava all'orgoglio e alla gioia di scrivere di traverso. La signorina Matti si trovava tristemente imbarazzata perché la dimensione delle parole aumentava come una palla di neve che si trasforma in valanga sino a diventare sesquipedale. In una lettera indirizzata al padre, di intonazione leggermente teologica e dialettica, ella parlava di Erode, tetraca di Idumea. La signorina Matti lesse così «Erode, petrarca di Idumea» e si mostrò contenta, come se avesse letto correttamente. «Ho dimenticato la data, ma credo che la signorina Jenkins avesse scritto la serie più numerosa delle sue lettere nell'anno 1805, in occasione di una visita fatta a una famiglia di amici vicino a Newcastle, sul Tyne. Costoro erano intimi amici del comandante della guarnigione militare, il quale li teneva informati sui preparativi in corso per respingere l'invasione di buona parte, che secondo alcuni avrebbe avuto luogo alla foce del Tyne. La signorina Jenkins si era evidentemente assai allarmata e le lettere del primo periodo della sua permanenza, nelle quali riferiva minutamente i preparativi della famiglia di cui era ospite contro il temuto pericolo, erano scritte in un inglese abbastanza comprensibile. In esse dava notizia dei pacchi di vestiti e di indumenti pronti per la fuga ad Alston Moor, una zona collinosa e deserta che si stendeva fra il Northumberland e il Camberland. Del segnale convenuto per la fuga e per l'appello alle armi dei volontari, segnale consistente, se ben ricordo, in un modo particolare e sinistro di suonare le campane della chiesa. Un giorno, mentre la signorina Jenkins e i suoi ospiti si trovavano a pranzo a Newcastle, era stato effettivamente dato l'allarme, iniziativa tutt'altro che saggia se si deve prestar fede alla morale implicita nella favola del pastore e del lupo, ma così accadde. La signorina Jenkins, riavutasi a fatica dallo spavento, il giorno successivo, aveva scritto una lettera in cui descriveva il suono delle campane, l'affanno, il fuggi-fuggi e più avanti, dopo aver ripreso fiato, concludeva con questa osservazione. Caro papà, non puoi immaginare come appaiano insignificanti in questo momento, a spiriti calmi e perspicaci, le apprensioni provate l'altro giorno. E qui, la signorina Matti uscì a dire, ma in quel momento, mia cara, non erano affatto trascurabili e insignificanti. Ricordo che molte volte mi svegliavo di notte credendo di udire il trepestio dei francesi che entravano a Cranford. Molta gente manifestava l'intenzione di nascondersi nelle miniere di sale e là sotto la carne si sarebbe conservata magnificamente, salvo che avremmo forse sofferto la sete. In quell'occasione mio padre tenne un intero ciclo di sermoni. Una prima parte la mattina, su Davide e Golia, per infiammare gli spiriti e incitarli a combattere con le vanghe e perfino coi sassi, se necessario. E la seconda parte ogni pomeriggio, per fornire la prova che Napoleone, che noi chiamavamo Boni, era tutt'uno con Napoleon e Abaddon. Ricordo che a mio padre si aspettava che, ricordo che mio padre si aspettava che gli si chiedesse di pubblicare i sermoni della seconda parte, ma forse ai parrocchiani era bastato di ascoltarli. Peter Marmaduke Early Jenkins, il povero Peter, come cominciò a chiamarlo la signorina Matti, a quel tempo frequentava la scuola di Shrewsbury. Il rettore prese in mano la penna e diede una spolverata al suo latino per rispondere al figlio. Le lettere inviate al ragazzo erano ciò che si suol definire lettere per la facciata. Appartenevano a un genere altamente intellettuale e contenevano la realizzazione dei suoi studi, delle sue speranze di varia natura e, quando era il caso, qualche citazione d'autore classico. Ma di tanto in tanto l'istinto fanciullesco erompeva in brevi frasi, tracciate evidentemente in fretta e furia dopo il visto della censura scolastica. «Cara mamma, ti prego, mandami una torta e mettici dentro molto limone!» La cara mamma rispondeva al figlio sotto forma di torte e caramelle, giacché quella raccolta non conteneva nulla di lei, ma solo gli scritti del rettore, al quale il latino delle lettere del figlio faceva lo stesso effetto di uno squillo di tromba al vecchio cavallo che ha combattuto in guerra. È certo che io non so molto di latino e forse si tratta di una lingua decorativa ma non molto utile, a giudicare almeno dai brani che ricordo di aver trovato nelle lettere del rettore. Uno di essi era di questo tenore. «Nella tua carta geografica dell'Irlanda non è indicata quella città, ma bonus bernardus non videt omnia, come si legge nei proverbi». Poco dopo si intuiva nettamente che il povero Peter si era cacciato in vari guai. Alcune lettere dirette al padre contenevano pompose parole di pentimento per qualche malafatta e, fra l'altro, venne fuori un biglietto scritto male, mal sigillato, male indirizzato e scarabocchiato, che diceva «Mia cara, 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 carissima mamma, ti prometto che diverrò migliore, lo voglio davvero, ma ti prego non affliggerti troppo per me, non ne sono degno, ma sarò buono, carissima mamma». La signorina Matti lesse queste parole e scoppiò in lacrime. Mi porse il biglietto e poi si alzò in piedi e andò a deporlo in un sacro recesso della sua stanza per paura che potesse finire nel fuoco. «Povero Peter», ella disse. «Si trovava sempre nei pasticci. Era troppo compiacente. Gli altri lo tiravano a fare il male e poi lo piantavano in asso. Però gli piacevano troppo le marachelle. Non sapeva resistere al piacere di fare uno scherzo. Povero Peter». 6. Il povero Peter Il povero Peter aveva davanti a sé una carriera tracciata in modo piuttosto piacevole da amici affezionati, ma, anche in questo, bonus Bernardus non videt omnia. Egli avrebbe dovuto farsi onore alla scuola di Shrewsbury e arrivare difilato all'università, dopodiché sarebbe entrato in possesso di un vicariato aiutato in ciò dal suo padrino, Sir Peter Arley. Povero Peter. Il destino che la vita gli riservava era molto diverso da quello che i suoi familiari avevano sperato e progettato. La signorina Matti me ne fece un racconto particolareggiato e credo che dovette sentirsi più sollevata dopo. Egli era il tesoro della mamma, che si dimostrava tuttavia tenerissima verso tutti i suoi figli, per quanto forse si sentisse un po' intimorita dalle doti superiori di Deborah. Deborah, invece, era la beniamina del padre e, quando Peter gli causò le prime delusioni, ne divenne l'orgoglio. L'unica distinzione onorifica che Peter portò con sé lasciando la scuola di Shrewsbury fu la reputazione di essere il miglior compagnone che mai fosse esistito, nonché di eccellere nell'arte di giocare tiri birboni. Il padre ne ebbe grandi spiacere, ma decise di porvi rimedio in maniera vigorosa. Egli non poteva permettersi di affidare il figlio a qualche precettore, ma poteva prendersene cura egli stesso. E la signorina Matti mi descrisse i terribili preparativi fatti nello studio del padre in maniera di dizionari, in materia di dizionari, il giorno che Peter cominciò a studiare. «Povera mamma!» esclamò la signorina Matti. «Ricordo che stava in corridoio, vicino alla porta dello studio, per cogliere il tono assunto della voce di mio padre. Guardandola in viso io mi rendevo subito conto se tutto procedeva bene, e per parecchio tempo tutto andò bene». «E poi? Sorse qualche inconveniente?» domandai io. «Immagino che sia stato per colpa di quel noioso latino». «No, la colpa non fu del latino. Mio padre trattava Peter con grande benevolenza perché gli era molto utile per il suo lavoro, ma Peter pareva d'avviso che si potesse canzonare e farsi gioco della gente di Cranford, cosa poco gradita ai nostri concittadini e del resto a chiunque». Egli cercava continuamente di prenderli per il naso. «Prendere per il naso, cara, non è una bella espressione, e spero che non vorrai riferire a tuo padre che io l'ho usata. Non mi piacerebbe che gli pensassi ad una mia deficienza nella scelta delle parole dopo aver vissuto con una donna della levatura di Deborah. E anche tu cerca di non usarla mai. Credo che mi sia sfuggita ora di bocca soltanto perché stavo pensando a Peter, e questa era una delle sue espressioni preferite». Tuttavia, in molte cose egli si comportava da gentil'uomo. Era sempre pronto a porgere aiuto ai vecchi e ai bambini, proprio come il caro Capitano Brown. Ma gli piaceva acceliare e divertirsi, e pareva persuaso che le vecchie signore di Cranford avrebbero creduto a qualunque cosa. A quel tempo vivevano a Cranford molte vecchie signore. È vero che anche adesso le donne sono in maggioranza, ma noi non siamo vecchie come lo erano le signore al tempo in cui ero ragazza io. Se penso a qualcuno degli scherzi di Peter, mi viene da ridere. No, mia cara, non te li voglio raccontare perché forse non ti impressionerebbero come sarebbe giusto aspettarsi. E si tratta di scherzi davvero scandalosi. Una volta si prese perfino gioco di mio padre, presentandosi a lui in abiti femminili e dicendo di essere una signora di passaggio per la città che desiderava conoscere il rettore di Cranford, autore di quell'ammirevole sermone. Peter confessava che si era terribilmente spaventato, vedendo il babbo cadere in trappola e offrirsi di far trascrivere tutti i sermoni su Napoleone Buonaparte per farne un omaggio a lei, a lui, voglio dire no a lei perché Peter in quel momento era una donna. Mi raccontò più tardi che mentre il babbo parlava il suo terrore andava crescendo. Non aveva pensato alla possibilità che il babbo sarebbe caduto nell'inganno e tuttavia se la burla non fosse riuscita ci sarebbe rimasto male. Invece gli andò bene e fu contento come una Pasqua perché mio padre gli diede subito l'ordine di trascrivere i dodici sermoni su Buonaparte per la signora, cioè per Peter stesso, la signora era lui. E una volta che desiderava andare a pesca, Peter esclamò, maledetta quella donna! Un pessimo linguaggio, mia cara, ma Peter non era sempre misurato come avrebbe dovuto. Mio padre era al colmo della collera e io provai un grandissimo spavento e tuttavia trattenevo a stento le risa ai piccoli cenni maliziosi di Peter ogni volta che mio padre accennava all'eccellente gusto e alla chiara intelligenza della signora. La signorina Jenkins era informata di queste birbonate. Io chiesi. Oh no, per lei sarebbe stato un colpo troppo forte. all'infuori di me nessuno ne sapeva nulla e anch'io non sempre conoscevo i suoi progetti, talvolta faceva anche con me. Peter era solito dire che le vecchie signore di Cranford avevano bisogno di argomenti di conversazione, ma io non ero d'accordo con lui. Tre volte alla settimana arrivava il loro St. James Chronicle, esattamente come arriva adesso a noi e noi di cose da dire ne abbiamo sempre molte. Ricordo il cicaleccio di quelle signore quando si riunivano, ma probabilmente gli studenti chiacchierano più delle signore e un giorno accadde una cosa spaventosa. La signorina Matti si alzò, andò alla porta e l'aprì. Non c'era nessuno. Suonò il campanello e quando Marta comparve le disse di andare ad una fattoria situata dalla parte opposta della città a comprare delle uova. Marta, bada che chiudo la porta a chiave. Hai paura di andare a fare questa commissione? No, signorina, per nulla. James Chronicle sarà contentissimo di accompagnarmi. La signorina Matti si irrigidì levando il capo e appena fumò sole disse che le sarebbe piaciuto di vedere in Marta un contegno più morigerato. Ora, mia cara, spegniamo la candela. Possiamo conversare benissimo al chiarore del fuoco. Ecco fatto. Devi sapere che Deborah si era assentata da casa per un paio di settimane. Ricordo che era una giornata bellissima e quieta e i lillà erano in fiore, ragion per cui ritengo che fosse primavera. Mio padre era uscito per andare a visitare una famiglia di povera gente. L'avevo visto partire con la sua parrucca, il cappello attesa larga e il bastone da passeggio. Non so dire da che cosa fosse invaso l'animo del nostro povero Peter. Aveva il carattere più dolce che si possa immaginare e tuttavia gli piaceva di tormentare continuamente Deborah. Ella non rideva mai degli scherzi che gli faceva. Lo considerava sgarbato e poveroso, trascurato verso se stesso, incapace di pensare a migliorarsi. E questo giudizio feriva il ragazzo. Ebbene, egli andò nella stanza di lei. Tirò fuori la vecchia gonna, lo scialle, la cuffia che Deborah era solita indossare quando usciva in città e che erano cose note a tutti e se le mise indosso. Poi prese un cuscino e lo trasformò in un... Sei sicura che la porta è chiusa, cara, non vorrei che qualcuno potesse udire. In un bambino in fasce, con un lungo vestito bianco. Il suo scopo era solo quello di offrire un motivo di risate agli abitanti di Cranford, come egli mi disse più tardi. Non pensava affatto che ciò avrebbe potuto toccare Deborah sul vivo. E andò a passeggiare lungo il fiale Filbert. Dietro la cancellata che lo nascondeva in parte alla vista dei passanti, cullando il guanciale proprio come un bambino e sussurrandogli le paroline senza senso che diciamo tutti. Oh cara, in quel momento comparve in istrada mio padre, col suo passo maestoso, e scorse una piccola folla di persone, non meno di una ventina, pigiate contro la cancellata e intente a spiare. Lì per lì pensò che stessero osservando un rododendro che si trovava in piena fioritura e che egli era orgoglioso di possedere e rallentò la sua andatura per dare loro agio di ammirarlo. In quel momento immaginò di poter fare un sermoncino e pensò forse che ci fosse qualche relazione fra i rododendri e i gigli dei campi. Povero papà. Mentre si avvicinava fu meravigliato di notare che nessuno si accorgeva di lui, ma erano tutti così addossati l'uno all'altro, col viso proteso a spiare attentamente. Mio padre si unì al gruppo di curiosi col proposito, come egli ebbe poi a dire, di invitarli a entrare con lui nel giardino per ammirare la sua bella flora, quando, mia cara, tremò ancora all'idea. Egli diede un'occhiata tra i ferri del cancello e vide. Non so che cosa gli parve di vedere, ma il vecchio Claire mi disse che il viso gli divenne grigio per l'ira. Gli occhi fiammeggiarono fra le nere sopracciglia corrugate e gridò, oh che terribile grido, e pregò che tutti rimanessero fermi al loro posto. Nessuno doveva allontanarsi, nessuno doveva fare un passo. Poi, rapido come il lampo, andò all'ingresso del giardino, raggiunse il viale Filbert, afferrò il povero Peter e gli strappò i panni di dosso. Cuffia, scialle, gonna, tutto, e scagliò il cuscino in direzione dei curiosi, sopra la cancellata. Quindi, in preda a una tremenda collera davanti a tutti, diede a Peter una carica di bastonate. Mia cara, quello scherzo da ragazzo in quella giornata di sole, quando tutto pareva che andasse a meraviglia, spezzò il cuore di mia madre e mutò mio padre per tutta la vita. Proprio così. Il vecchio Claire disse che Peter era pallido in viso quanto il babbo, e se ne stava immobile come una statua a ricevere le bastonate, e mio padre colpiva sodo. Quando si interruppe per riprendere il fiato, Peter levò il viso dicendo con voce roca, signore, ne avete abbastanza? Non so che cosa abbia risposto mio padre, né se abbia risposto. Ma il vecchio Claire mi disse che Peter si rivolse alle persone raccolte dietro il cancello. Fece loro un profondo inchino, solenne e grave, come quello di un qualunque gentiluomo, e poi si incamminò lentamente verso casa. Io mi trovavo in magazzino, occupata con la mamma a preparare il vino dei fiori, il vino coi fiori di primola. Ancora oggi non posso tollerare quella sorta di bibita, né il profumo di quei fiori. Essi mi danno una specie di malessere, di spossatezza. Proprio come quel giorno in cui Peter entrò nel magazzino con aria altera, sì, con l'aspetto di un uomo e non di un ragazzo, esclamando, mamma, sono venuto a dirti, iddio ti benedica sempre. Mentre parlava, le sue labbra erano scosse da un tremito, e credo che non osasse dire qualcosa di più affettuoso a causa di ciò che in cuor suo aveva già deciso. Mia madre lo guardò con aria interrogativa e spaventata, e gliene chiese il motivo. Egli non rispose, né le sorrise, ma la cinse di un abbraccio e le diede un bacio, quasi non sapesse come fare ad allontanarsi. E prima che la avesse potuto pronunciare altre parole, egli era fuori dal magazzino. Mia madre ed io facemmo varie congetture, senza riuscire a spiegarci la cosa, e la mamma mi disse di andare in cerca del babbo e di chiedergli cosa mai fosse accaduto. Trovai mio padre che camminava su e giù con aria profondamente amareggiata. Dì a tua madre che ho bastonato Peter e che se lo è ben meritato. Io non osai chiedere di più. Quando lo riferì a mia madre, ella si accasciò su una sedia ove rimase per qualche minuto. Ricordo che alcuni giorni dopo, i poveri fiori apprassiti di Primola furono gettati nel mucchio delle foglie secche e con queste abbandonati al disfacimento e alla morte. Quell'anno in casa del rettore, nessuno ebbe voglia di fare il vino di Primola, né mai più da allora. Subito dopo mia madre andò a cercare mio padre. Ricordo di aver pensato alla regina Esther e al re Assuero, perché mia madre era grinzosa e delicata e mio padre aveva un'aria terribile come quella del re Assuero. Poco dopo uscirono insieme dalla stanza e allora mia madre mi raccontò ciò che era successo, aggiungendo che, per desiderio di mio padre, andava di sopra in camera di Peter, sebbene dovesse tacere col figliuolo di chi l'aveva mandata per parlare con lui dell'accaduto. Ma Peter non c'era. Per lo strammò tutta la casa. Peter non c'era. Anche mio padre, che dapprima se n'era astenuto, si unì poco dopo alle nostre ricerche. Il rettorato era una vecchia casa, con un'infinità di gradini da scendere e da salire. Da principio mia madre chiamava il figlio sottovoce, come per rassicurare il povero ragazzo. Peter, caro, sono io, la mamma. Ma a poco a poco, quando cominciarono a rientrare i domestici che mio padre aveva sguinzagliato in tutte le direzioni per cercare Peter, e dopo che risultarono vane, le nostre ricerche in giardino, nel fienile, dappertutto, il suo grido si fece più forte e più angosciato. Peter, Peter, tesoro mio, dove sei? Poiché aveva finito per capire che il lungo bacio che egli le aveva dato conteneva il triste significato di un addio. Giunse la sera. Mia madre non era rimasta tranquilla un istante e aveva continuato a cercare in tutti i luoghi possibili dove già avevamo esplorato, anzi, dove lei stessa aveva già guardato una ventina di volte. Mio padre stava seduto col capo fra le mani e non proferiva parola se non quando qualcuno si presentava a riferirgli di non aver raccolto alcuna notizia. Allora alzava il viso da cui ispirava un'espressione di severità e di tristezza e ordinava all'informatore di fare ricerche in altre direzioni. La mamma passava silenziosa da una stanza all'altra. Usciva di casa e rientrava senza concedersi un minuto di tregua. Né lei né mio padre osavano allontanarsi da casa, che era la meta di tutti gli informatori. Alla fine, ed era quasi buio, mio padre si alzò in piedi. Mentre mia madre attraversava la soglia della stanza e con passo inquieto e triste si dirigeva nella stanza vicina, mio padre la prese per il braccio. A quel contatto ella trasalì perché all'infuori di Peter tutto per lei aveva cessato di esistere. Molly, egli disse, non immaginavo che sarebbe accaduto tutto questo. Egli la fissava come a cercare un motivo di conforto in quel suo volto pallido e desolato perché né lei né mio padre avevano osato ammettere e tantomeno dimostrare il terrore che invadeva il loro cuore all'idea che Peter avesse voluto farla finita. Negli occhi febbrili e angosciati della moglie mio padre non trovò la consueta comprensione e gli mancò quella simpatia che ella era sempre stata così pronta ad offrirgli. Era un uomo d'animo, forte, eppure di fronte alla cupa disperazione della moglie i suoi occhi si riempirono di lacrime. Ma a quel pianto un dolce senso di pena si diffuse sul suo volto ed ella disse, carissimo John, no non piangere, vieni con me, lo troveremo. E parlava quasi lietamente come se sapesse dov'era il figlio e prese nella sua piccola morbida mano quella grande e forte di mio padre che non cessava di piangere e lo trasse con sé da una stanza all'altra, dalla casa al giardino, in un andare affaticato e senza sosta. Oh come desideravo che Deborah fosse presente! Non avevo il tempo di piangere perché mi sembrava che tutto dipendesse da me. Le scrissi di tornare a casa? Mandai di mia iniziativa una lettera alla fattoria del signor Holbrook. Povero signor Holbrook, sai a chi intendo riferirmi. Non scrissi a lui personalmente, ma ad un tale che avrebbe potuto dirmi se Peter si trovava in quella casa. Perché tempo addietro il signor Holbrook aveva fatto qualche visita a casa mia. Sai che egli era cugino della signorina Paul ed era stato molto buono con Peter e gli aveva insegnato a pescare. Era molto buono con tutti e io pensavo che Peter avrebbe potuto essersi rifugiato da lui. Ma il signor Holbrook non era in casa e nessuno laggiù aveva visto Peter. Ormai era calata la notte, ma le porte erano spalancate e mio padre e mia madre continuavano ad andare su e giù. Erano insieme da un'ora ormai e non credo si fossero scambiati una sola parola. Io stavo accendendo il fuoco in salotto. Una domestica preparava il tè poiché desideravo che mangiassero e bevessero qualche cosa per riscaldarsi, allorché il vecchio Claire si accostò dicendo «Signorina Matti, ho preso a prestito le reti della chiusa. Dobbiamo scandagliare gli stagni stanotte oppure aspettiamo domattina». Ricordo che lo fissai in viso per cogliere il significato delle sue parole e quando esso mi apparve chiaro scoppiai in una risata. L'orrore che mi suscitò quel pensiero. Il nostro carissimo Peter, vivace, intelligente, in fondo a uno stagno, freddo stecchito. Ricordo ancora il suono della mia risata. L'indomani, prima che fossi tornata in me, Deborah era in casa. Ella non sarebbe stata tanto debole da cedere come avevo fatto io, ma le mie grida, la mia orribile risata si era volta in pianto, avevano destato la mia cara e tenera madre che si riebbe prontamente dal suo accasciamento non appena seppe che una sua creatura aveva bisogno delle sue cure. Ella sedette con Deborah al mio capezzale e potei leggere nei loro sguardi che sul conto di Peter non era giunta alcuna notizia. Nessuna di quelle spaventose e lugubri notizie che avevo maggiormente temuto nel torpore del mio dormiveglia. Il risultato negativo delle ricerche aveva recato un certo sollievo anche a mia madre, per la quale senza dubbio il pensiero che Peter si fosse impiccato in qualche angolo della casa era stata la ragione dell'incessante anni rivieni del giorno precedente. Dopo d'allora i suoi dolci occhi non furono più quelli di prima. Rimase in essi un ardore inquieto e supplichevole, come se fossero alla ricerca di ciò che non potevano trovare. Oh, fu una disgrazia spaventosa, piombata sulla nostra casa come un fulmine, quando i lillà erano in fiore e le giornate tranquille e piene di sole. E dov'era il signor Peter? Io domandai. Aveva preso la strada di Liverpool e là si combatteva. Alcune navi da guerra si trovavano a largo della foce del Mercy e puoi immaginare come furono tutti contenti che un ragazzo prestante come lui, era alto quasi un metro e novanta, si fosse presentato ad arruolarsi. Il capitano scrissi a mio padre e Peter scrissi a mia madre. Aspetta, quelle lettere devono essere qui. Accendemmo la candela e trovammo la lettera del capitano e quella di Peter. E ci venne anche fra mano una supplichevole lettera che la signorina Jenkins aveva inviato a Peter all'indirizzo di un vecchio compagno di scuola dove ella riteneva che si fosse rifugiato. La lettera era tornata intatta e tale era rimasta poiché qualcuno l'aveva messa per errore fra la corrispondenza di quel periodo. Eccola. Mio carissimo Peter, credo che tu non abbia pensato al dispiacere che ci procuravi, altrimenti non te ne saresti andato. Sei troppo buono. Tuo padre sospira con tanta tristezza che il mio cuore non regge. Non riesco a sollevare la testa per il dolore. Eppure egli ha fatto solo ciò che riteneva fosse giusto. Forse è stato troppo severo e forse io non sono stata una mamma abbastanza buona. Ma lo sa Dio come ti amiamo, mio caro unico figlio. Da quando sei partito, Dio, Don, ha un aspetto molto triste. Ritorna a far felici i tuoi genitori che ti amano tanto. Sento che tornerai. Ma Peter non tornò. In quel giorno di primavera egli vide per l'ultima volta il viso di sua madre. L'autrice di quella lettera, l'ultima, la sola persona che sapesse ciò che in essa era scritto, era morta da tanto tempo. A una estranea come me, non ancora nata quando i fatti erano accaduti, era toccato in sorte di aprirla. Nella sua lettera il capitano invitava il padre e la madre a ricarsi immediatamente a Liverpool se desideravano rivedere il loro figliolo e per uno di quei casi incomprensibili e strani della vita, la lettera del capitano si era arenata non si sapeva come né dove. La signorina Matti continuò. Era il tempo delle corse dei cavalli e tutti i cavalli da posta erano andati alle corse, ma mio padre e mia madre partirono col nostro calessino e purtroppo giunsero in ritardo. Il bastimento era salpato. E adesso leggi la lettera di Peter alla mamma. Era una lettera piena di affetto, di rammarico, d'orgoglio per la sua nuova carriera, d'un doloroso senso di vergogna di fronte al giudizio dell'agente di Cranford e terminava supplicando ardentemente la madre di correre a salutarlo prima che il vascello lasciasse il mercy. Mamma forse andremo in guerra, lo spero e spero di picchiare sodo su quei francesi, ma prima che questo succeda ti devo rivedere. Ed ella arrivò troppo tardi, disse la signorina Matti. Troppo tardi. Seguì un lungo silenzio durante il quale meditammo sul significato di quelle tristissime parole. Alla fine domandai alla signorina Matti come la madre aveva sopportato le conseguenze di quella sventura. Oh, ella rispose, mia madre era la pazienza in persona. Non era mai stata una donna forte e quella disgrazia la indebolì in modo spaventoso. Mio padre sedeva accanto a lei e la guardava. Egli era ancora più triste di lei. Quando le sedeva vicino pareva che non potesse posare lo sguardo altrove ed era diventato così umile, così gentile ora. Se talvolta gli accadeva di parlare col tono deciso e perentorio d'un tempo, dopo qualche minuto si accostava a noi e, fingendo di nulla e posandoci le mani sulle spalle, ci domandava sotto voce se avesse detto qualcosa di sgarbato. Non mi stupivo di vederlo comportarsi a questo modo verso Deborah, perché ella era molto intelligente, ma quando usava quel tono con me mi sentivo mancare il cuore. Ma ti dirò, egli vedeva ciò che noi non riuscivamo a vedere, e cioè che il dolore stava uccidendo mia madre. Sì, la uccideva. E cara, spegni la candela, al buio riesco a parlare meglio. Perché era una donna fragile e per nulla adatta a sopportare la paura e l'angoscia attraverso cui era passata. Ella si sforzava di sorridergli per fargli coraggio, non a parole, ma con gli sguardi e il modo di fare, che in presenza di lui erano sempre animati. E discorreva di Peter, facendo previsioni circa il suo avvenire, sulle buone probabilità che gli aveva di essere molto presto nominato ammiraglio. Era tanto coraggioso e intelligente. Sperava quindi di rivederlo vestito dell'uniforme di marina e si chiedeva quale foggia avessero i cappelli che portavano gli ammiragli. A suo parere, Peter era molto più adatto a fare il marinaio che non l'ecclesiastico. E continuava a parlare di queste cose per convincere mio padre che ella era pienamente soddisfatta delle conseguenze di quell'infelice mattina e di quelle busse che, come tutti sapevamo, erano diventate il chiodo fisso di quel pover uomo. Ma, oh mia cara, le amarissime lacrime che versava quando era sola. Col passare del tempo ella si faceva sempre più debole. Non riusciva a trattenere il pianto in presenza mia e di Deborah e incaricava tutte e due di inviare a Peter una lettera dopo l'altra. Il suo vascello era andato nel Mediterraneo giù di là e poi l'avevano mandato in India e laggiù non si poteva arrivare per via di terra. Tuttavia ella diceva che a nessuno è dato di sapere quando ci tocchi di morire e che non dovevamo pensare che ella dovesse morire presto. Noi non pensavamo a questo, ma lo sapevamo, poiché di giorno in giorno le sue forze venivano meno. Del resto, mia cara, è sciocco che io parli in questo modo, dato che non è lontano il giorno in cui la rivedrò. E pensa cara, proprio il giorno dopo la sua morte, perché non sopravvisse neppure un anno dalla partenza di Peter, giunse per lei dall'India un pacco postale inviatole dal suo figliolo. Il pacco conteneva un grande sciallo indiano morbido e bianco con un piccolo bordo tutto intorno, proprio ciò che la mamma avrebbe tanto gradito. Noi pensammo che la vista di quell'oggetto avrebbe riscosso mio padre dal suo stordimento, che aveva passato tutta la notte con la mano di mia madre stretta nella sua. Così Deborah portò a lui lo scialle e depose la lettera accanto a mia madre. Lì per lì egli non vi fece caso e noi tentammo di richiamare la sua attenzione dispiegando lo scialle e lasciandoci sfuggire come inavvertitamente qualche parola di ammirazione. Allora ad un tratto egli si alzò in piedi dicendo «La seppelliremo a volta in questo scialle, Peter avrà questa consolazione e lei ne sarebbe stata contenta». Ebbene, forse non fu una cosa ragionevole, ma che potevamo dire? Non si può negare nulla a chi soffre. Mio padre prese in mano lo scialle e dopo averlo palpato disse «E' uno scialle come questo che Molly avrebbe desiderato avere per le sue nozze e sua madre non glielo diede. Io non lo seppi se non dopo, altrimenti glielo avrei procurato proprio come l'avrebbe voluto, ma ora l'avrà». E com'era bella mia madre sul suo letto di morte. Era sempre stata graziosa e ora aveva un viso delicato, pallido come la cera e giovane, più giovane di Deborah, che vicino a quel letto rabbrividiva e tremava. Avvolgemmo la salma in quelle ricche morbide pieghe e pareva che sorridesse come se fosse contenta. E la gente venne a visitarla. Vennero tutti gli abitanti di Cranford, chiedendo di poterla vedere perché tutti le avevano voluto molto bene e con ragione. Le contadine portarono mazzi di fiori. La moglie del vecchio Claire portò un mazzolino di violette bianche e ci chiese di poterle deporre sul suo seno. Il giorno dei funerali di mia madre, Deborah mi disse che anche se avesse avuto cento proposte di matrimonio, le avrebbe rifiutate per non abbandonare mio padre. Non era molto verosimile che potesse riceverne tante. Non so se ne abbia ricevuto nemmeno una, ma non per questo la sua dichiarazione le fece meno onore. Era tanto affezionata mio padre che non credo che se ne potesse trovare un'altra come lei. La vista di mio padre si era indebolita ed ella gli leggeva un libro dopo l'altro e scriveva e copiava ed era sempre a sua disposizione per il disbrigo degli affari della parrocchia. Ella era in grado di fare molte cose più di mia madre e una volta scrisse perfino una lettera al vescovo. Ma il poveretto soffriva molto della mancanza della mamma. Tutti i parrocchiani se ne accorsero. Non che egli fosse meno assiduo, credo anzi che fosse più attivo di prima e molto più paziente nel porgere assistenza ai bisognosi. Io facevo tutto il possibile perché Deborah riuscisse a dedicarsi interamente a lui, perché sapevo di essere capace di far poco e che il meglio del mio lavoro consisteva nello sbrigare quietamente le piccole faccende sollevandone gli altri. Ma mio padre non era più lui. Il signor Peter non venne mai a visitarvi? Sì, una volta. Venne a casa col grado di tenente. Non era riuscito a diventare ammiraglio. E che amicizia fra lui e mio padre! Mio padre lo prendeva con sé ogni volta che si recava a far visita alle famiglie della parrocchia, tanto era orgoglioso di lui. Non camminava per via se non appoggiandosi al braccio di Peter. A quella vista Deborah sorrideva. Non credo che dopo la morte di mia madre qualcuno di noi abbia più riso. E diceva di essere stata messa in disparte. Ma egli si valeva sempre di lei quando c'era da scrivere una lettera o da leggere o da regolare una cosa qualunque. «E poi?» domandai dopo un breve silenzio. Poi Peter fece ritorno alla sua nave. E poco tempo dopo mio padre morì, dando a tutte e due la sua benedizione e ringraziando Deborah di quanto aveva fatto per lui. Naturalmente la nostra condizione non fu più la stessa. Così, invece di abitare nel rettorato, con cameriere e un domestico al nostro servizio, fummo costrette a raggiustarci in questa casetta con una donna per tutti i lavori. Ma come Deborah era solita dire, «abbiamo sempre vissuto dignitosamente, anche se le circostanze ci hanno imposto la massima semplicità. Povera Deborah!» «E il signor Peter?» chiesi. «Oh, in India scoppiò una grande guerra, non ricordo quale, e da quel tempo non abbiamo più saputo nulla di lui. Credo che sia morto. E talora mi tormenta il pensiero di non aver preso il lutto per la sua morte. Ancora oggi, quando siedo sola in qualche stanza e tutta la casa è tranquilla, mi par di udire in strada il suono dei suoi passi e il mio cuore prende a battere più forte, ma il suono si perde lontano e Peter non compare mai. È tornata Marta, no? Mia cara, va a vedere. Sai bene che so trovare la strada anche al buio. È un soffio d'aria fresca mentre apro l'uscio, mi farà bene al capo. Mi sembra già di sentire qualche dolorino. Uscì camminando a passettini svelti. Io accesi la candela perché al suo ritorno trovasse la stanza più accogliente. «Era Marta?» domandai. «Sì, mi sento piuttosto a disagio perché mentre aprivo l'uscio ho udito uno strano rumore». «Dove?» le chiesi perché aveva gli occhi sbarrati dal terrore. «In dici perché la vidi esitante». «No, baci!» Per oggi terminiamo qui la lettura. Io spero ti stia piacendo questo testo della Gaskell e ti ricordo che questo titolo lo sto leggendo in prima lettura, quindi non lo preparo prima. Da postazioni differenti rispetto alla mia solita, quindi la qualità audio è differente dai miei audiolibri tradizionali, ma ultimamente ho molto meno tempo per registrare gli audiolibri come facevo di solito, quindi ho deciso di fare queste letture, un po' viandanti, per leggere un po' più di titoli, per partecipare in questo caso alla Challenge Classici per un anno e per tenerci compagnia più spesso. Quindi io ti saluto e noi ci sentiamo ai prossimi capitoli. Ciao!